Il futuro del turismo online sbarca all'undicesima edizione di Buy Turismo Online, la borsa del turismo online in programma dal 20 al 21 marzo alla stazione Leopolda di Firenze. Un appuntamento irrinunciabile per gli addetti del settore che potranno conoscere tutte le novità del turismo, quello smart, digitale e proiettato verso l'innovazione. Ci sono due modi per stare nel mondo delle imprese e nel mondo del turismo. Possiamo attendere e cogliere i frutti di ciò che la natura può naturalmente destinarci oppure essere protagonisti e anticipare e cercare di comprendere quali sono le desiderate, quali sono gli spazi, quali sono gli strumenti possibili. La Toscana sta facendo questo, sta facendo bene da tempo. Stiamo cercando di comprendere in anticipo quali sono le evoluzioni di questo mondo e per mettere a disposizione degli operatori tutti gli strumenti più avanzati per essere protagonisti in questo mercato. E le due giornate della BTO si inseriscono proprio in questo percorso per cercare di intercettare le novità del turismo a livello mondiale, con workshop incentrati quindi sull'innovazione digitale del mondo dei viaggi. L'innovazione digitale del turismo non la fa la singola impresa, il singolo albergo, struttura ricettiva o ristoratore che sia, perché lì, insomma, dopo che ha messo il wifi, ha fatto un po' di cambiamenti gestionali, poco è innovazione. Ma l'innovazione è della destinazione ed è dei prodotti turistici. Quei prodotti turistici e le destinazioni nel loro complesso devono essere integrate e digitali. Su questo ragionamento inizieremo a lavorare sia con gli ambiti territoriali turistici, che sapete, 28 ambiti della regione, sia con i prodotti turistici omogenei, che sono i due strumenti che la regione ha messo in campo per il turismo. Tra gli appuntamenti da non perdere, quello dove parteciperanno i rappresentanti delle due città, decretate le capitali europee del turismo smart, l'Inz e l'Ubiana. Ma si esplorerà anche in quale modo sta cambiando la domanda cinese e si parlerà anche di turismo nello spazio.